Musica Quindi a questo punto lo dividerò in due parti Ma c'è quello stronzo lì davanti che non mi convince per niente Quindi adesso lo ammazzerò così Perfetto, l'ho ammazzato subito, è stato abbastanza facile Non ci ho voluto praticamente niente Con il laser si può fare tutto alla velocità della luce Allora, ma grazie Gentilissimo Allora, adesso qui che cosa devo fare? Che devo fare? C'è un aspirapolvere? Va bene Io me la porto dietro perché non si sa mai Magari devo fare le pulizie di primavera Che tra l'altro la primavera sta anche arrivando Porca puttana, quanto non la sopporto Perché sono allergico E quindi la primavera per me vuol dire morte L'estate è già meglio È molto meglio Ma la primavera è qualcosa di veramente osceno No, penso che ci sia qualcun altro qui sopra Ho come l'impressione che ci sia qualcun altro Proviamo ad andare Ecco, lo sapevo Allora Questo è quello stronzo che sequestra i cubi Dio, nel frattempo che tu sequestri il cubo Me ne vado Addio Ora però non so quello che devo fare qua Non ne ho idea Allora Quello stronzo però mi ha seguito? Non mi ha seguito E io vorrei sapere adesso come devo fare Io me lo dovrei portare qui Ma io quei cosi da lontano li posso ammazzare anche? Aspetta Sì, li posso anche ammazzare Perfetto Solo che mi servirebbe l'aiuto di quello stronzo Vieni Meno male che è arrivato davanti alla porta Grazie, grazie Beh, dammi i cosi Dammi la droga, dai Dai Ma voglio guidare le cose, per favore Ma che cazzo servi se non mi dai la spazzatura? Dammi Ma ti muovi? Ma da Finalmente Guarda proprio Con tutta la comodità di questo Con tutta la Comodità di questo mondo Oh, perfetto Adesso Cosa ho fatto? Non so nemmeno cosa ho fatto Mi sa che ho sbloccato sto coso Posso passare? Posso passare Vieni con me Allora, adesso Ah, devo saltare Che culo che sono riuscito a saltare giusto in tempo Ma, tante volte ero gestato con quella dormiva Ma, ma, tante volte l'ho fatta Ma, non uso io Sì, ma, vai, chiudi sta cazzo di porta e fammi finire Sì, ne chiudi Allora Adesso giustamente la cosa non mi serve più È rimasta lì dietro Tanto, chi se ne frega Allora, vediamo di riuscire a prenderla anche da qui sotto Vai Perfetto Cioè, casca tipo un cilindro Che questo coso lo prende Lo blocca E lo fa andare dall'altra parte Viva la tecnologia Chissà se riesco a prenderlo anche da qua Proviamoci Tanto ormai Sono già passati 70 minuti di registrazione Figuriamoci Ah no, lo posso anche prendere da qua Mamma mia Non mi prendi per il culo? C'è io adesso devo rifarlo Ah, ma quindi non è che una volta fatto Non rompe più le palle No, le deve comunque rompere più tardi Ma mi fa piacere, devo dire Allora Dai, forza Fammi passare Oh, che palle Però io credevo che mi lasciasse passare Aia Credevo che mi lasciasse passare Cosa succede nella mia Ma cosa cazzo fa Ma cosa cazzo ha fatto Cosa ha fatto No, vabbè Di nuovo da qua No No, vabbè Abbiamo ufficialmente sbloccato Anche l'ultimo coso Io spero che a questo punto Sia veramente finita Perché non ho mai giocato Ad un capitolo di voli così lungo Come questo Vi giuro ragazzi Che non mi è mai capitato Di farne uno Così lungo Non abbiamo manco bisogno Di ripristinarci la vita A questo punto Possiamo proseguire E c'è un'altra cosa da fare Comporre il codice Per ottenere l'accesso Allora Questo Ma vi giuro ragazzi Io mi ricordavo Che fosse suddiviso In capitoli piccolini Non Che fosse Tutto in uno Che è una cosa Veramente mostruosa Ditemi che abbiamo finito Non abbiamo ancora finito Adesso Ma è possibile Questo stronzo C'è sempre Madonna E che cazzo Sei un rompicoglioni Porca puttana Sei proprio un rompicoglioni No 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 Mi guardare Non mi guardare Stavolta No Non voglio essere guardato Il problema È che Non so come Ah ecco dov'è No stavolta però Voglio fare stealth Proviamo a fare stealth Dai 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 E ce l'ho fatta So Allora posso essere quindi Posso confermare il fatto che so fare sia stealth che no Quindi Sblocchiamo sto coso E andiamoceno a casa Mi sembrava di aver sentito il rumore di quei cosi Ok Finalmente ce l'abbiamo fatta allora Non riesco a capire però Dovetevo passare qua Ma cosa cazzo Ma che cazzo è quel coso Come cazzo faccio a passare di qua Sì vabbè però Gesù E che cazzo Come si fa sta parte Allora Io utilizzo questo Perché sì Poi però se mi lagga pure E non va bene Allora poca puttana Andiamo di qua E vaffanculo ce l'abbiamo fatta Non era così tanto difficile Ma non è possibile Ma veramente Non è ancora finito Ma è esagerato di lunghezza Questo coso È veramente esagerato Mi devo ammazzare tutti? No problem Va bene Aspetta aspetta Ma questi non mi guardano Vaffanculo però Io credevo mi avessero già visto Gioco però non puoi mettermele così Le cose Ok perfetto Primo capo Secondo Però ti devi levare dei coglioni Allora Vai con il terzo Dai Sono sicuro che qui dietro ce n'è uno Perfetto Ne ho ammazzati due contemporaneamente Sono Ma porca puttana Adesso Adesso me ne devo un attimo andare a curarmi Ok Allora adesso dobbiamo fare anche noi I grandi lanci Quindi Prendi sto coso E Perfetto È stato bellissimo Giuro Dai forza Non me ne caccia più manco uno Vaffanculo Prendo questo Muori pure tu Perfetto Non è stato molto difficile Solo che mo Comunque non posso prenderlo Che cazzo devo fare? Aspettate Wally Che cazzo stai Wally Ma hai dei problemi mentali? Ah Oh Attenzione ragazzi Si è finalmente tolta Quella cazzo di ombra di lato E da due episodi Sembrava che Era da due episodi Che stava Finalmente ragazzi Abbiamo finito Non ci credo Ecco Leggiadria Mettiamo la prima E con altrettanta Leggiadria Mettiamo la seconda Finalmente Ci abbiamo Eve libera Non ci credo Cioè Sarà un'ora di gameplay Sto coso Madonna Santa Sono stanchissimo Sono stanco Per il fatto che Che poi il montaggio Sarà difficile Perché dividere Non Che fate Questo continua No non ve ne frega niente A voi Ha salvato Vabbè Vediamoci direttamente Il filmato anche Del prossimo capitolo Così almeno La prossima volta Potremo iniziare già Dalla Dall'azione Cosa succede Ah si Qui giusto Il braccio spara Al contrario Ammazza tutti quanti Libera tutti i robot Nemici E tutti i robot Quelli che sono malati Mentali E in teoria Tutti quelli che c'hanno Aiutato E adesso dobbiamo scappare Perché siamo praticamente Ricercati da mezzo mondo Oh il nostro primo basso Che in realtà Non era qui Che si baciavano Che bello Autostrada umana Oh Questo qui Era particolare Questo coso Lo faremo ovviamente Nella prossima parte Tanto comunque abbiamo Ecco guardate un po' Quanti cazzo di robot Che ci sono Perché adesso siamo Praticamente ricercati Da tutto e da tutti Nel prossimo episodio Ci divertiremo A fare Questa roba Nel prossimo episodio Ci divertiremo Stavo dicendo A fare questa roba qua Sarò molto felice Di farla con voi Nel prossimo episodio Dicevo Stavo un attimo vedendo Quindi Grazie a tutti Per aver visto questo Noi ci rivediamo Nel prossimo episodio Di Wall-E E basta Ciao a tutti ragazzi Ricordatevi ovviamente Di lasciare un bel like E di iscrivervi al canale Per questo mio grandissimo Sacrificio No vabbè dai ragazzi Se vi va Di iscrivervi Iscrivetevi Se non vi va Pazienza Mangiatevi un panino Con il prosciutto Perché il prosciutto È buono Ciao a tutti Da CessnautX Grazie a tutti